Salve, salve da Marco Calabro per conto di Amaci Casa Italia. Ci troviamo oggi a Milano, siamo al Salone del Mobile e quello che stiamo a vedere è lo stand di Bontempi Casa. Bontempi è un nome storico italiano nel settore dell'arredamento che andiamo a visitare in questa occasione. L'azienda è un'azienda familiare che è passata di generazione in generazione proseguendo e sviluppando un'idea di progetto di stile e di marketing interessante. È un'azienda in questo senso sicuramente che è stata sempre molto dinamica funzionale e vediamo una tendenza all'essenzialità dei prodotti che però vengono arricchiti, vediamo in questo caso per esempio la gamba, che vengono comunque arricchiti in termini stilistici. Proseguiamo nello stand di Bontempi Casa, vediamo anche in questo caso la ricchezza della gamba di questo tavolo. l'azienda sicuramente è un'azienda che ha da sempre avuto cura del particolare stilistico e questo anche è legato veramente a un amore profondo per il design. Ricordiamoci siamo al Salone del Mobile 2018, siamo a Milano e quello che stiamo vedendo è lo stand di Bontempi Casa. Ecco un altro tavolo dove la venatura del piano in Carrara e una struttura di base sicuramente hanno creato delle caratterialità al prodotto. vediamo un altro caso, quello di questo tavolo dove la gamba diventa protagonista del piano del tavolo insieme a questa venatura che straordinariamente lo rende interessante. vediamo un altro caso, ci siamo resi conto che l'azienda punta sicuramente molto al design, a un'idea di arredamento importante. vediamo la movimentazione su questo mobile e quanto dà una forte caratterialità al prodotto. come se fosse una pagina di catalogo. Siamo, ricordiamoci, all'interno dello stand Bontempi Casa al Salone del Mobile di Milano 2018. Vado verso la parte finale dello stand, è chiaro che non siamo entrati in merito ai singoli prodotti, l'idea era quella di poter offrire una sensazione di quella che è la produzione del marchio Bontempi Casa. Grazie sempre per ascoltare i video di Amaci Casa Italia e arrivederci al prossimo video.